Il tema del palazzetto dello sport è stato anche questo dibattuto, non si nega la necessità di una struttura per attività sportive al coperto, si nega la possibilità che questa struttura sia in questa fase storica e congiunturale negativa da realizzarsi nell'immediato. Il lavoro dell'assessore Mostabilini ci mette in condizioni di attuare scelte in aree che confermiamo con quella vocazione, dove c'è il centro comprensorio di atletica, per esempio c'è un'ipotesi di ampliamento della struttura sportiva, non con un palazzetto ma con altre funzioni, e nell'area vicina ai campi di calcio, che qualcuno avrebbe voluto rendere edificabile, sarà possibile a nostro avviso valutare una possibile struttura al coperto leggera, se ne sta dibattendo. È confermata inoltre al di sotto di Colina San Giorgio una grande area con funzioni pubbliche, chiaramente è un'area privata per cui è solo una ipotesi di possibile utilizzo e da anni per quell'area o in quell'area si ipotizza anche la realizzazione di una struttura sportiva di un certo peso. Però, ripeto, in questa fase non si sta discutendo di questo perché le casse comunali non permettono di assumere una decisione di questa portata. Nella seduta di Consiglio Comunale che ha visto l'adozione del piano di governo del territorio le minoranze si sono astenute. Hanno parlato di poca condivisione, in modo particolare la lista civica per Clusone ha detto che diritti edificatori che sarebbero stati assegnati dalla precedente amministrazione con il piano di governo del territorio adottato a suo tempo adesso vengono negati e viceversa. Come rispondete? Inizio dalla seconda domanda. Non ci sono diritti edificatori che possono essere riferiti a un piano di governo del territorio adottato, quindi su questo tema nessun problema. Diciamo che concordemente i consiglieri comunali e i commissari della Commissione del governo del territorio avevano evidenziato una serie di, chiamiamole così, errori o di incongruenze fra i documenti di inquadramento e alcune scelte. Per cui è stata fatta pulizia di queste scelte ritenute non congrue, che ripeto non davano origine a nessun diritto edificatorio, riconducendo poi le decisioni a un ragionamento che noi abbiamo ritenuto più corretto, la non condivisione o il non coinvolgimento. Allora il percorso è stato a mio avviso assolutamente trasparente, tant'è che è capitato spesso che addirittura la maggioranza o la Giunta, dicesse sottoscritto, ci informi poco e fossero più informati i componenti della Commissione. Qui si tratta poi di migliorare le relazioni fra chi è in una Commissione e chi sta in Consiglio Comunale. Però ritengo davvero di aver fatto un percorso assolutamente trasparente, consentendo ai tecnici, sia l'architetto Dosetti che l'architetto Locatelli, di concentrarsi sul loro compito, che era quello di riformulare una proposta di piano più coerente con tutti i documenti di impostazione.